In Serie C arriva la separazione consensuale tra il nuovo basket aquilano e il coach Titti Stama. La squadra ora è affidata a Davide Tedeschini con l'ausilio di Paolo Nardecchia. Al coach, si legge in una nota, vanno i ringraziamenti più sentiti per il lavoro svolto in quest'anno e mezzo e tutta la vicinanza in qualunque altra esperienza professionale dovesse a breve iniziare resterà sempre nell'ambiente aquilano la consapevolezza di aver accolto in questo periodo al Palangeli un vero signore del parquet. La squadra è affidata dunque con il ruolo di capo allenatore ora a Davide Tedeschini che sarà affiancato nella conduzione tecnica da Paolo Nardecchia. Davide Tedeschini è un aquilano puro sangue, ha 23 anni, è cresciuto da giocatore in tutte le categorie giovanili nei primi anni di Serie C nella società del Palangeli. Da tempo ha iniziato la sua carriera da allenatore nel prestigioso settore giovanile a fianco di Paolo Nardecchia. A lui va l'imbocca al lupo della società, avrà accanto l'affetto di tantissimi appassionati che sono da sempre a fianco del nuovo basket aquilano.